Quarto risultato, utile di fila nel campionato di Serie C nel Mirino, impresa tutt'altro che semplice ma neanche impossibile, ci proverà con gambe, testa e cuore il Cerignola impegnato domani sul campo del Pescara terzo in classifica nel decimo turno del girone d'andata, fischio d'inizio previsto alle ore 14.30 allo stadio Adriatico Cornacchia e il terzo appuntamento ufficiale concentrato in sette giorni per gli Ofantini che nel turno infrasettimanale di martedì scorso al Monterisi avrebbero meritato probabilmente la vittoria nel derby contro il Taranto, ma al triplice fischio sono stati costretti ad accontentarsi del pareggio senza reti. Gli abruzzesi hanno perso una sola volta in nove partite, hanno una serie aperta in campionato di sei risultati utili consecutivi e molto probabilmente contenderanno sino al termine la promozione in Serie B a Catanzaro e Crotone. Ci arriviamo con entusiasmo, orgogliosi di andare a giocare su un campo in una piazza importante come quella di Pescara che ha avuto un inizio molto importante di campionato, hai appena citato qualche numero e questo spiega un po' l'avversario che incontreremo domani. Sicuramente andremo lì domani cercando di fare un'altra bellissima prestazione e di tornare a casa con più punti possibili. Il percorso intrapreso, come ho già detto in precedenza, è quello giusto, bisogna coltivarlo, bisogna nutrirlo questo percorso e bisogna continuare a metterci roba dentro per far sì che poi gli episodi possano girare dalla parte nostra. Gara dal coefficiente di difficoltà elevato ma il Cerignola è pronto, un Cerignola che deve avere la personalità per affrontare con le giuste credenziali un avversario di grande blasone e deve cercare di essere più cinico in fase di finalizzazione rispetto alla gara casalinga contro il Taranto. Questa sarebbe la soluzione ideale, però sappiamo che nel calcio le partite a volte ti tolgono, a volte ti danno come è già successo nel nostro mini percorso in queste partite, è chiaro che noi dobbiamo essere consapevoli che la strada intrapresa è quella giusta, sarò ripetitivo ma è quello che più mi interessa sottolineare e far presente perché i ragazzi in questo momento hanno bisogno di consapevolezza e di certezze, le hanno trovate e bisogna continuare su questa strada e poi io credo e sono sicuro che alla fine i risultati ci daranno grandissima soddisfazione.